buona tavola e linea fanno d'accordo quando il prosciutto è tipico di parma ed è garantito dal marchio del consorzio parliamo dei suoi requisiti l'origine ma l'origine sono io d'accordo ma il consorzio ha controllato che fosse in perfetta salute e della migliore qualità la dolcezza dipende da chi lo prepara con sale e molta abilità la stagionatura e qui il perché delle finestre lunghe nelle valli del taro del baganza del parma spira una continua brezza che non è esagerato definire prodigiosa le finestre lunghe convogliano fra le file dei prosciutti la leggera carezza di questo venticello opportunamente dosato dall'antica saggezza degli esperti in questa brezza il segreto di una perfetta stagionatura i prosciutti aspettano e dopo dieci mesi il prosciutto è stagionato si apponga il marchio di garanzia solo i prosciutti con questo marchio sono garantiti per origine e qualità dal consorzio prosciutti tipici di parma grazie a tutti